Sarò inflessibile nel difendere nella stessa identica maniera i diritti della maggioranza e i diritti dell'opposizione. Mi troverete pronto su questo. Dai, facciamoli entrare per stavolta. Accomodatevi. Solo per stavolta, eh? Vedi, però sotto i piedi del duccio gli ho messo la stella rossa. C'è anche un simbolo comunista, però gliel'ho messo sotto i piedi. C'è l'ormai superato, indigiuso e troppo a lungo sfruttato fascismo e antifascismo. Si uniscano per dire sì. Questa dimostrazione, questa manifestazione vuole dimostrare che è possibile battere il comunismo, che è possibile battere i nemici dell'Italia. E insieme lo faremo. In questo mese di ottobre, nel quale cade il centenario della marcia su Roma, che è detta inizio alla dittatura fascista, tocca proprio a me assumere momentaneamente la presidenza di questo tempio della democrazia che è il Senato della Repubblica. Dalle istituzioni democratiche deve venire il segnale chiaro che nessuno verrà lasciato solo prima che la paura e la rabbia possano raggiungere livelli di guardia.